Vuol dire che non dobbiamo aiutare i clienti? La legge mi impone di rispondere di no. Noi dobbiamo aiutare la gente. Noi dobbiamo aiutare la nostra gente. A cominciare dai nostri azionisti, Bob. Chi li aiuta i nostri azionisti, eh? Bob, guardami in faccia quando ti parlo! Ah, quell'uomo va fuori. Ti serve aiuto. Non cambiare argomento, Bob. Sto parlando del tuo modo di fare. Bob, ti licenzio! Chiudi la porta. Torna qui, subito. Non sono felice, Bob. Per niente. L'ha fatta franca. E meno male. Per poco non perdevi il lavoro.